ebbene amici fratelli della congrega senza alcun trucco né inganni vi parlerò di me stesso cioè questo no di tom seismon di cui forse scriverò un saggio monografico l'attore scomparso 18 febbraio 2023 colpito da aneurisma cerebrale via di mictus a causa di esso dopo poco paio di giorni dopo fu dichiarata la morte cerebrale 18 febbraio 28 febbraio sto renderizzando la nuova avventura del commissario fanò anche lì dico 18 18 prima domenica di marzo attore non straordinario forse sì bravo caratterista di razza comparso in una miriade di film più o meno importanti di cineasti notevoli nei ninti accoppiatosi con donne molto belle maiv quillan lizzarli e poi denunciato per violenze domestiche nel 2013 robert de niro suo amico lo aiutò per via dei problemi di droga di size more non si capisce però perché de niro non abbia più recitato con lui già da prima del 2013 un aiuto però poco lavorativo poco rimunerativo e così crollato droga alcol donne una sciupa femmine quest'uomo corpulento quest'uomo e attore corposo riconoscibilissimo che ha partecipato a varie spiega diciamo importanti salvato il soldato rire black hawk down ridley scott riconosciuto per il ruolo del detective jack scagnetti natural bone killers di oliver stone proposi de niro indiziato di reato da confondere con sorvegliato speciale del quale neanche a farla apposta un paio di settimane fa io e walter realizzammo una video recensione dallas de niro hit poi a proposito de niro non c'è de niro ma è una sorta di proseguimento ideale in questa trilogia notturna taxi driver after hours for orario bring out the dead al di là della vita assieme a nick cage e poi tante altre pellicole twin pixel ritorno il suo ritorno comeback quella che non è una serie tv ma uno dei più grandi film della strada del cinema dura quasi venti ore e la sua vita è durata 61 anni stroncato dal malumore quindi caduto in depressione no da un tumore no da un malore uomini di poco cuore vi dico di tutt'ardore che il falò è un uomo nuovo che però ricorda la sua adolescenza problematica no quel periodo mio o qui reminiscente del mio essere stato come tutti adolescente e mai sarò un adulto deficiente perché si può invecchiare anche male o ringiovanire splendidamente le memories di quest'attore presente anche in strange days a proposito di giochi mnemonici e mai zico viaggiato ricordate nanni moretti e forse è stato anche con juliette lewis tom sizemore hai capito in quel periodo se la faceva con woody harrelson con brad pitt di california o brad pitt di johnny suede s u i d paragonabile a woody harrelson di natural bone killers più che altro a quello di walk the dog di barry levingson con deniro da stinoff ma non c'è tom sizemore comunque scorrete la sua filmografia un attore grassottello robusto attore robusto come direbbero quelle di bulagna attore di peso e la sua vita è di peso diciamo da scelte sbagliate e tante cose che non sono andate per il suo giusto diciamo mi hanno alimentato i suoi vizi e l'hanno fatto precipitare diciamo in un ciclo vizioso in una spirale da cui è stato aspirato aspirava forse a diventare grande come roba de nero ma sarà ricordato come l'interprete di mimic relic relic l'evoluzione del terrore aveva una bella mimica più che altro anche lui recita un po da mickey rurk più fatti più abbiamo detto cicci bello grazie ciao peccato perché questo suo volto già sciupato già martoriato già escoriato sfregiato si riesce a vedere questo volto comunque carismatico un attore ipnotico che non faceva molto ma faceva parecchio soprattutto quanto pare fra le lenzuola ci dava dentro e ci dava con la droga poi quella di Maeve Quillan che è quella bionda di quel film Ken Park dove la sua fighella viene tutta lucidata molto bella questa attrice non da Tom ma da un ragazzino c'è proprio un rapporto orale diciamo molto rapente rapente vedi quel film a festival di Venezia la gente si scandalizzò e ben ben senti però diciamo che i maschi dinanzi a quella scena ce l'avevano rizzetto la filmai la filmai la scena no non si può diciamo filmare altrimenti se poi avessi reso pubblico il suo pelo pubblico comunque c'è la tutta depiletta no adesso non dobbiamo cascare nel vaginale no nel triviele dicevo filmai Maeve Quillan molto bella bionda così sexy così una specie diciamo di gloria guida statunitense ma forse californiane sappiamo che lì cantavano anche i red hot chili peppers californication che poi a proposito quello lì dei red hot hot non go bare strange days main point break quello lì tutto così quello che sembra uno scimonito come il falotico il cantante cantante di quella band musichelle che sta lì spiegge proprio lì ma forse che cos'è los angeles ma c'è la spiegge certo quindi è morto a los angeles tom sizemore diciamo è stato spiaggetto proprio è stato asfaltato da qualcosa inaspettato ma anche sì perché dicevo che quando un uomo si droga ma con tante donne come Anthony Kiddis se non possiede diciamo il fisico di Keanu Reeves o di Patrick Swayze vabbè lui è stato colpito da un male impietoso di natura diciamo impescrutabile diciamo imponderebile adesso sto dicendo cazzette comunque ecco allora se si è Anthony Kiddis che è uno rives doppiato da Luca Vard non solo di point break è doppiato da lui di John Wick si resiste agli urti della vita e anche della figa e ci si può diciamo conservare mantenuti come me no ben tenuti con tanto di gambe accavallate peccato per Tom comunque diciamo non si è fatto mancare niente ha lavorato con Scorsese, Scott, Spielberg, Catherine Bigelow che secondo me è quello era un polpone Strange Day scritto da Cameron ma io so che in quelle camere lì non le videocamere Nikon so che Tom assieme diciamo a Ralph Fiennes con la signora Catherine c'è Strange Day o in point break no cioè non c'era in point break Tom Sides adesso comunque insomma io so perché la signora Catherine Bigelow viene così stimata dagli uomini ha vinto l'Oscar per diciamo The Art Walker non Zero Dark Thirty è una regista con le palle con le palle sì sì so io quali palle perché poche balle uomini le cosce stanno così James Cameron ci diede dentro ma secondo me Catherine Bigelow sapendo di essere insomma un po' fighella diciamo bella così andava con tutti quelli di buon uccello secondo me è così è così io so io so io so